Sono molto contento di essere qui alla redazione di Bibliose Senicale, anche perché questa redazione mi rappresenta molto perché è una vera redazione di veri handicapati. Sono tutti veramente handicapati, cominciando dal sondaggio che hanno fatto. Dovevo vincere io perché tengo famiglia e avevo bisogno di prodotti alimentari, quindi siete tutti i grandi handicapati.